Prove tecniche di centro-sinistra, ma si fa fatica a creare l'unità. Il vincitore delle recenti primarie, Peppino Ranalli, si pone come obiettivo prioritario la ricomposizione della coalizione, attualmente divisa da una parte PD di VSL che hanno partecipato insieme alla scelta del candidato sindaco, dall'altra PSI e Sulmona Democratica che si sono dissociati dalle primarie. Ranalli si rivolge proprio a questi ultimi che hanno scelto, dice, di avviare un percorso che mescola troppe appartenenze che sono state contrapposte per un'intera consigliatura, unendo uomini di centro-sinistra con uomini dell'area moderata e di destra. Il riferimento è proprio ai socialisti e ai dissidenti del Partito Democratico che hanno stretto accordi con Udc e Rialzati Abruzzo. Questi raggruppamenti, prosegue Ranalli, troppo eterogenei, portano ad inevitabili confusioni e contraddizioni, tali che non garantiranno mai il buon governo della città, né quella stabilità politica ed amministrativa utile a risolvere i problemi più gravi che oggi vive la comunità sulmonese e di riflesso l'intero comprensorio. Ranalli spiega che, trascorsa una pausa di riflessione, dopo la vittoria nelle elezioni primarie, sente il dovere e la responsabilità di farsi primo garante dell'unità del centro-sinistra in tutte le sue anime componenti. Da qui parte l'appello rivolto a tutti gli elettori idealmente vicini al centro-sinistra, richiamandosi ai suoi valori e ai suoi obiettivi, perché nell'unità di tutti noi possiamo costruire insieme, afferma, nel dialogo e nell'incontro delle proposte, delle idee e delle aspirazioni, un progetto politico concreto e partecipato di serie alternativa al centro-destra, che arriva con fatica a fine mandato, rimediando un bilancio fallimentare a tutto danno della città. Peppino Ranalli si dichiara disponibile ad incontrare tutti gli esponenti delle diverse componenti, partiti e movimenti, per aprire conclude un onesto e proficuo confronto di idee, di proposte e di iniziative da intraprendere insieme nel prossimo futuro, consolidando quell'unità che assicurerà la vittoria elettorale, favorita da una squadra omogenea con obiettivi chiari da porre al servizio esclusivo della città.